dopo la bella diretta di ieri sera con le domande dei nostri ascoltatori a cui ha partecipato anche francesco toscano puntata tra l'altro che vi invito ad andare a vedere è online sul nostro canale e siamo a martedì e quindi do l'appuntamento il ben ritrovato con gilberto trombetta che era che era con noi ieri sera anche insieme a francesco ben trovato ben trovati ai nostri ascoltatori ovviamente ecco allora questa settimana due volte consecutive con gilberto siamo all'appuntamento classico nostro del martedì allora riepiloghiamo subito di cosa parleremo e naturalmente una buona parte della nostro appuntamento sarà dedicato al recovery plan faremo uno direi un'operazione verità vista la propaganda del mainstream che in questi giorni sta impazzando a reti unificate sul recovery e su draghi poi daremo un po di numeri che fotografano le difficoltà economiche degli italiani parleremo di medici di base parleremo delle cifre riporteremo le cifre incredibili che i benetton hanno distribuito agli azionisti delle loro società della loro società l'atlantia che gestisce la rete autostradale e poi parleremo in facendo riferimento gilberto alla all'evento di sabato scorso al circo massimo di un episodio che ti è proprio ti ha visto proprio diretto protagonista con una giornalista di la 7 e allora ci riferirai che allora qui darai proprio uno spaccato della modo di fare informazione informazione con 20 virgolette ovviamente che fa il mainstream ma ci riporterai tu diretto interessato protagonista in prima persona allora recovery plan sta per essere presentato alla commissione europea oggi proprio è stato votato e la meloni si è astenuta e all'opposizione ma si è astenuta non ha nemmeno avuto il coraggio di votare contro parleremo anche di questo senti il pilota automatico fino al 2026 e il mutuo fino al 2058 stanno per diventare esecutivi per gli italiani eh sì quindi possiamo dire a tutti gli effetti che a quanto pare il recovery plan che è quello che servirà per accedere ai fondi del recovery fund quindi possiamo dire che il recovery fund è un mess che ce l'ha fatta visto che noi dal messa eravamo riusciti incredibilmente a scamparne visto che poi ce lo proponevano in tutte le salse diverse forze politiche e invece sembra proprio che con recovery fund tutti i partiti politici eh ci legheranno mani e piedi consegnandoci di fatto alla troica tecnography di bruxelles almeno fino al 2058 hai ricordato bene te che è stato votato oggi eh l'intervento alla camera di draghi sulla presentazione del recovery plan praticamente è stato votato all'unanimità perché ha ottenuto 400 42 sì parliamo della camera ovviamente 51 astensioni tra cui quelle come ricordavi te di fratelli d'italia che pur stando all'opposizione non hanno neanche avuto il coraggio di votare contro e 19 no eh il grosso di quali è ascrivibile al gruppo misto insomma e a parlamentari esterni alle singole forze presenti in parlamento sono nomi che nomi e partiti io vi invito a ricordare perché è il nome di quelli che ci stanno svendendo per un tozzo di pane non solo a noi e già sarebbe tanto ma anche ai nostri figli ai nostri nipoti tozzo di pane che in realtà ci è stato sottratto e ci è stato restituito perché sempre continuando con la metafora del tozzo di pane che sarebbero i soldi che un giorno riceveremo sono soldi che noi dovremmo restituire si chiama è un fondo il recovery fund come suggerisce il nome perché i soldi qualcuno ce li deve mettere e non ce li mettono i mercati non ce li mettono la bce ma ce li mettono gli stati in base a cosa al loro contributo al bilancio europeo e quindi l'italia continua ad essere contribuente netta anche con recovery fund senti quali sono entriamo un po adesso nel dettaglio diamo i numeri veri facciamo come dicevo all'inizio un'operazione verità alla faccia della mainstream ovviamente per chi lo guarda ancora perché si proprio si fossilizza ancora a guardare le televisioni e a leggere i giornali senti quali sono i punti che proprio in assoluto ci penalizzano di più sia come sistema paese che come cittadini proprio che ci penalizzano e ci penalizzeranno ancora di più quello che a noi ci penalizza oltre innanzitutto ricordiamo che questi fondi qualora ci venissero erogati arriva con delle pesanti condizioni quelle ex ante sono quelle che appunto dobbiamo presentare a monte un piano di come li spenderemo e questo piano deve rispecchiare le indicazioni della commissione europea quindi soprattutto la transizione al verde o meglio il greenwashing per parlarlo con loro per chiamarlo col suo vero nome la digitalizzazione e altre cose per esempio alla sanità è destinata una quota minima farebbe ridere se non fosse drammatico che in una di quella delle più grandi emergenze sanitarie o almeno così ci viene raccontata insomma la quota destinata alla sanità è risibile quindi già noi abbiamo dei vincoli molto pesanti a monte cioè dobbiamo presentare un piano per dire come spenderemo questi soldi non basta oltre a dire come spenderemo questi soldi cioè esattamente come vuole bruxelles quindi di fatto sono loro che ci hanno scritto il recovery plan anche perché tutti i contatti che ci sono stati tra roma e bruxelles erano proprio per questo e in più devi anche promettere che farei delle riforme cioè non basterà che tu gli prometterai che spenderei quelli che sono soldi tuoi perché devi restituire è come se tu prendi un mutuo a una banca non sono sostiti a fondo perduto no li devi restituire ma in più la banca pretende di dirti quale casa comprare e come arredarla internamente sì esatto è proprio il paragone il parallelo con una casa dove la banca ti dice la devi la puoi ristrutturare ma come dico io e direi che è calzante perfettamente che potrebbe passare se la banca i soldi te li regalasse effettivamente dice guarda ti regalo 500 milioni d'euro per comprarti una bella casa però ti dico io quale casa e come arredarla ci potrebbe stare in linea teorica se invece è un mutuo quindi sono presti soldi tuoi che ancora non è messo ma che devi restituire quindi sempre soldi tuoi sono ma come è possibile che ti venga detto quale casa comprare come arredarla e magari anche chi invitarci dentro quindi abbiamo delle condizioni pesantissime e in più dicevamo si accompagnano a queste riforme ma le riforme sono le solide l'innalzamento dell'età pensionabile più liberalizzazioni più privatizzazioni le tasse sulle prima casa cioè riforme lacrime e sangue riforme che si richiamano all'austerità che è il pilastro su cui si fonda l'unione europea per mantenere la stabilità dei prezzi quindi chiunque provi a porre un discorso in termini di risparmio di tassi di interesse sui prestiti che ti fa l'unione europea ho capito ma ovviamente si fa il paragone con quanto costa il finanziamento a debito cioè mettendo titoli di stato a parte che con quanto sono scesi gli interessi la differenza non è così sostanziale sugli interessi che pagheresti ma continuiamo a ribadire fino alla nausea che se ti indebiti emettendo titoli di stato perché quello puoi fare dentro l'unione europea ovviamente se tu avessi una tua banca centrale potresti finanziare la spesa deficit senza indebitarti cioè lo stato potrebbe direttamente mettere banconote o potrebbe obbligare la banca centrale ad accreditare i soldi sul conto della tesoreria del mef fondamentalmente in questo caso sei obbligato comunque a ricordare la bcn mettendo titoli di stato però in quel caso non avresti condizioni di nessun tipo ti indebiteresti ma spenderesti i soldi per quello che dici anche perché è legittimo che le esigenze dell'italia siano diverse da quelle di altri paesi poi anche se sei d'accordo un minimo nel dettaglio dei numeri anche per capire meglio di cosa stiamo parlando i numeri principali che ci sono quelli che rendono fotografano sempre bene al meglio la realtà escludendo i soldi prestiti e sussidi che si rifanno ad altre voci che non siano i recovery fund per i recovery fund l'italia diciamo che ha messo in bilancio super giù in conto di ricevere 190 miliardi di euro circa di cui 120 miliardi di prestiti quindi questi l'unico argomentazione che quella che dice anche il ministro dell'economia franco che hanno dei tassi di interesse più bassi ho capito ma anche quelli arrivano con condizioni ma a meno dei sussidi ma anche quelli arrivano con condizioni e poi abbiamo circa 70 miliardi di sussidi ecco tenete conto che l'italia dovrà restituire su per giù la sua quota di partecipazione al recovery fund è di circa 51 miliardi quindi se parliamo di 70 miliardi di sussidi noi saremo in attivo massimo nella migliore delle ipotesi di circa 20 miliardi di euro io vi ricordo che l'anno scorso abbiamo perso 150 miliardi di pil quasi il 10 per cento poco meno tanto per darvi un numero però poi diciamo bene ma almeno di 20 miliardi staremmo in attivo e no e no perché nello stesso lasso di tempo cioè tra il 2021 e il 2027 l'italia dovrà contribuire al bilancio dell'unione europea essendo contribuenti netti che è una voce a parte rispetto al recovery fund per 150 miliardi di euro ci tornerebbero indietro su per giù 99 miliardi di euro 100 il che vuol dire però che saremmo in passivo di 50 miliardi di euro se li metti a confronto con i 20 miliardi di euro forse di attivo con recovery fund stai comunque in in debito di 30 miliardi cioè loro stanno in debito tu sei in credito 30 miliardi senti la tra l'altro una notizia dice che l'informazione dice che con recovery fund ci sarebbe la possibilità quindi di creare 750 mila nuovi posti di lavoro che sarebbe tra l'altro però non dicono che sarebbe come un riportare il livello di occupazione al livello del 2019 però tra l'altro ricordiamo ricordiamo sempre poi bisogna vedere come li vogliono creare questi posti di lavoro di quale tipo con quali salari a tempo determinato indeterminato il contratto viene proposto in più ricordiamo che prima dello scoppio della crisi quindi prima del 2020 all'italia mancavano rispetto a paesi come francia inghilterra almeno due milioni e mezzo di dipendenti pubblici quindi se tu vai a fare investimenti per abbiamo perso quasi un milione di posti di lavoro quest'anno quindi già quelli che promettono non sono neanche sufficienti a recuperare appunto i posti perduti nell'ultimo anno non parliamo di tutte le perdite pregresse che avevamo negli anni precedenti tra l'altro ci sono dei calcoli che fanno vedere appunto come gli investimenti per le infrastrutture dello stato e soprattutto i soldi dati per l'occupazione cioè le assunzioni sono quelli che hanno il moltiplicatore fiscale ne abbiamo parlato poche puntate fa del moltiplicatore fiscale più alto cioè se tu al suo stato assumi le persone investendo un miliardo di euro e di fatto ecco il l'aumento del pil è di un miliardo e mezzo di euro sì quindi è il ritorno massimo tenete conto che si prevede al massimo del successo del recovery fund che a noi l'aumento del pil è in entro il 2026 non in un anno sarà del 3,6 per cento nello scenario migliore cioè circa l'uno per cento l'anno un pil è più alto di una sessantina di miliardi in cinque anni ma ricordiamo per le nese oltre noi abbiamo perso i 150 di miliardi e che è un aumento di 60 70 miliardi in da fino al 2026 in cinque anni sono 15 miliardi l'anno ma per un paese come l'italia 15 miliardi dell'anno sono zero anche se solo li dovessi fare mettendo un nuovo debito parliamo di cifre ridicole tenete conto che il prossimo anno cioè quest'anno nel 2021 l'italia dovrà emettere titoli pubblici tra rimborso e fabbisogno aggiuntivo quindi non solo per 597 miliardi quasi 600 miliardi rendetevi conto che noi abbiamo aspettato più di un anno per delle cifre ridicole esattamente come abbiamo detto noi che non ci porteranno comunque in attivo con l'unione europea esattamente come andiamo dicendo da un anno e che vengono con pesantissime condizioni ex ante ex post più richieste di riforme lacrime e sangue mi dispiace ridirlo esattamente come andiamo ripetendo da un anno eh sì come i nostri ascoltatori sicuramente con i tuoi interventi sanno sanno benissimo e con altri con altri nostri ospiti ma soprattutto con il tuo appuntamento con il nostro appuntamento settimanale e senti la allora il mainstream come ho detto sta impazzando a reti unificate per celebrare questo recovery fund e draghi dicendo appunto che draghi ha messo il suo peso per difendere gli interessi dell'italia ma siamo non no no non ha difeso proprio gli interessi parlano di questa fantomatica eh telefonata con la von der leyen ma scusami se draghi mi sembra di essere l'idolo di bruxelles se è l'idolo di bruxelles non può essere una 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 figura positiva per per gli interessi dell'italia no? Riperdo draghi evidentemente è stato sopravvalutato ma comunque sia l'unione europea continua a essere quella che è quindi anche a draghi ricorda che i soldi verranno dati ma bisogna fare le riforme ci dovete dire come li spendete anzi dovete spendere come diciamo noi neanche ci dovete dire come li spendete e comunque io continuo a dire perché l'equivoco a monte più grande è quello che li continua a spacciare come soldi regalati dall'unione europea sono soldi che metteremo noi soldi nostri è un anticipo è un mutuo non sono soldi regalati è un mutuo con dei tassi di interesse leggerissimamente più bassi di quelli che otterremo eh emettendo titoli di stato ma ripeto ci dicono come spenderli quando spenderli ci dicono chi invitare a casa nostra e ci chiedono delle riforme lacrime e sangue e hanno ovviamente la facoltà questi fondi di interrompere interrompere l'interrogazione ovviamente qualora qualora si decidesse l'italia diciamo eh uscisse dal un po' mettesse il naso fuori dal recinto anzi da più che recinto reticolato hai fatto benissimo a ricordarlo Carlo ti ringrazio perché una volta che tu hai presentato il piano e viene approvato tu questi fondi comunque non te li sei garantiti perché ci saranno verifiche semestrali e se tu non rispetti e il piano di investimento per cui hai richiesto i fondi e le riforme che probabilmente devono accompagnare l'erogazione dei soldi dei sussidi e dei prestiti loro possono in qualsiasi momento interrompere l'erogazione. Sì eh guarda ok è stato necessaria questa ennesima direi nel caso nostro mi mi sento di dire operazione verità eh sulla recovery plan perché qui ne stiamo sentendo e continueremo i giorni e le settimane prossime a sentirne di ogni ogni eh di ogni sorta a senso unico ovviamente io qui mi continuo a farmi la domanda io non capisco perché la la gente guarda ancora la televisione eh io non la guardo più da tempo in memore e senti ehm una domanda volevo fare volevo sentire il tuo parere senti ma con un paese che è vincolato al percorso dettato no dal recovery plan eh i partiti presenti in parlamento che funziona e che senso hanno e avranno per i prossimi anni a questo punto quelli attuali nessuna quelli che siedono in parla quelli che sono rappresentati in parlamento diciamo dispiace essere così tranchante ma nessuna lo dimostra era una domanda scusami la mia era una domanda un po' retorica no eh ecco nessun vuolo di oggi all'unanimità recovery plan che ripeto si svenderà per un tozzo di pane per di più anche il nostro fino al duemila e cinquantotto in cui hanno tutti votato i compatto per il sì e coloro che si spacciano per opposizione si sono vigliaccamente astenuti. E appunto anche i fratelli d'Italia no che adesso dice è l'opposizione quindi adesso opposizione dura eccetera. Alla fine sul recovery plan eh dettato da Draghi che ovviamente la Meloni teoricamente fratelli d'Italia ovviamente hanno detto no non se ne parla di Draghi alla fine si sono astenuti quindi tanto fumo e dopo la fine eh alla fine sono più o meno come gli altri perché un'astensione per quel che mi riguarda quando un voto è comunque già unanime dall'altra parte un'astensione a maggior ragione è un abballo perché almeno potevano almeno potevano farsi vedere no non serviva ma eh potevano si votavano contro no? Scusami se ti interrompo la scusa veramente risibile sono tante pagine non l'abbiamo potute leggere tutte quindi ci asteniamo io non ho veramente parole questa non l'avevo sentita non ho veramente parole per commentare il pressappochismo la la cialtronaggine di questa classe politica quindi diciamo la classe le prossime elezioni potrebbero non aver senso a meno che non siano la prima occasione in cui la popolazione si dà una bella svegliata e dice adesso basta e cominciano a dare via a un vero ricambio della classe politica facendo entrare non personaggi che millantano chissà cosa ma partiti che nel loro programma e nel loro statuto hanno scolpito come sulla pietra la volontà di stracciare i trattati europei e tornare ad applicare la costituzione. Chiudiamo per oggi il capitolo recovery plan direi Gilberto e conseguenza comunque della crisi che ci sta investendo tutti diamo un po' di dati e di numeri per fotografare impiettosamente direi le difficoltà economiche degli italiani. Questo è un report dell'Issa che si concentra soprattutto sulla seconda ondata insomma più che sulla prima parte del 2020 sugli effetti della seconda ondata della pandemia più che altro sugli effetti delle restrizioni che hanno fatto seguito a perché le conseguenze economiche da questo derivano dalle decisioni del governo non di per sé dal virus e quindi abbiamo su per giù undici milioni di italiani cioè quasi uno su quattro il 22,2 per cento della popolazione che hanno avuto problemi economici dalle difficoltà più elementari ma quelle più gravi cioè anche ad esempio a pagare le bollette il 13,4 per cento al dover rinunciare alle vacanze il 16,5 per cento al non riuscire a far fronte a una spesa improvvisa 13,9 per cento quasi il 14 per cento e non riuscire a rimborsare le famose rate del mutuo io queste ci tengo il 6,3 per cento in questo caso perché una delle leggende che ci dicevano eh ma come fai con le rate del mutuo senza la bce con lo spread se esci dall'euro insomma tutte le difficoltà che ci hanno detto che avremmo avuto uscendo dall'euro gli italiani purtroppo le stanno vivendo dentro l'unione europea con l'euro ma non poteva essere altrimenti ehm comunque difficoltà anche nel pagare l'affitto in più abbiamo tre milioni eh di italiani che hanno avuto problemi con le spese alimentari cioè beni di prima necessità eh questo è il quadro purtroppo agghiacciante ma non sorprendente che ci ha dato l'Istat nel suo ultimo report e ovviamente molti italiani sono stati costretti anche a ricorrere ad aiuti economici amici e parenti ma anche delle banche o chissà di chi altro e alla vendita di beni di proprietà e la vendita anche di beni di proprietà e poi le immagini che mh per il mainstream ovviamente sono fanno parte così della ormai eh così della cronaca normale così eh le le file abbiamo vediamo anche a Milano le file di centinaia di metri del dei 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 nuovi poveri no che vanno alla eh che vanno a eh a pranzare la le associazioni praticamente le associazioni benefiche diciamo ecco e queste ormai sono diventate sono diventate ormai cronaca che sulle quali il mainstream nemmeno cioè le riporta così assetticamente come dire succede questo e la cosa la cosa più grave e più inquietante è proprio eh la setticità con cui trattano vengono trattate queste cose proprio a livello proprio di cronaca senti ecco ehm un'altra ehm un'altra aspetto eh che si è rivelato direi estremamente eh importante per non dire decisivo in questa fase pandemica e qui siamo al paradosso estremo riguarda i medici di base no perché sì perché sappiamo che l'Italia la sanità ovviamente i medici adesso tu ci dirai i dati sono in questi anni drasticamente diminuiti assolutamente perché noi ci concentriamo spesso ovviamente come è normale che sia ai tagli al sistema sanitario nazionale quindi uno pensa spesso agli ospedali alle asle agli infermieri e ai medici che lavorano negli ospedali ai posti letto tagliati negli ospedali ma abbiamo visto che c'è stato il fallimento anche totale della medicina del territorio della medicina di base perché perché è stata massacrata anche quella quindi che cosa è successo è successo che solo tra il 2008 e il 2018 circa diciamo gli ultimi dieci anni indicati ente prepandemia i medici di base sono calati di 4.000 unità non solo ovviamente proprio alla luce di questo l'età media è aumentata tantissimo che è lo stesso problema che abbiamo negli ospedali non abbiamo un numero di medici particolarmente basso rispetto all'Unione Europea più basso sì ma non particolarmente più basso ma abbiamo l'età media più alta d'Europa capite che essersi formati 40 anni fa o essersi formati 20 10 anni fa fa tutta la differenza di questo mondo diverso è il discorso sugli infermieri dove ce ne mancano una quantità clamorosa rispetto alla media di tutti gli altri paesi europei e detto questo che cosa è successo beh ci sta insomma un concorso per i medici di base 1302 posti vabbè ma se i candidati sono 1300 poco più è normale che i posti siano quelli non è che ne puoi offrire no no purtroppo i candidati sono quasi 12 mila vuol dire che l'89 per cento verrà scartato cioè non gli verrà dato modo di lavorare in Italia perché questi medici che non potranno accedere a questo concorso la maggior parte di questi lo sapete cosa farà andrà all'estero lavorare all'estero formati dal sistema pubblico italiano non assunti in quella che ci viene raccontata come la peggiore crisi sanitaria che noi abbiamo mai vissuto eppure non hanno riaperto gli ospedali non hanno assunto medici negli ospedali non hanno assoluto infermieri non hanno aumentato i posti letto di quanto avevano loro promesso che li avrebbero aumentati ma non stanno neanche agendo sulla medicina di base su quella cioè del territorio che sarebbe stata fondamentale per evitare l'intasamento degli ospedali lo scoppio dei cluster negli ospedali c'è risparmiare vite salvare vite ma veramente in questo caso quindi quando dicono che le misure come il lockdown il coprifuoco la mascherina all'aperto in assenza di assembramenti o anche con assembramenti serve per tutelare la vostra salute sono gli stessi che nel frattempo stanno per cacciare dall'italia quasi 10 mila medici per non assumerli qua da noi sì pensiamo ci taglia la sanità e e alla fine si riconduce sempre il tutto ce lo chiede l'europa e quindi e quindi eh morire per per maastricht come si ricordiamo che del famigerato recovery fund neanche il 10 per cento di fondi può essere cioè se tu dici dedicare lo tante per cento dei poveri fanno la sanità non lo puoi fare non ti danno i soldi è chiaro perché per chi sono hanno le condizionalità praticamente devono essere spesi come hanno deciso loro i soldi sono per digitalizzazione cioè devi stare chiuso dentro casa lavorare da casa comprare online e greenwashing cioè aiutare ovviamente l'industria automobilistica franco tedesca la loro riconversione al verde all'elettrico ecco questo è stato un bel esempio proprio concreto di quello che vuol dire i soldi del recovery fund vanno spesi come eh vogliono eh eh a Bruxelles quindi la sanità pochissimo quasi niente quindi praticamente si contrarrà ancora perché non corrisponde alle linee guida eh di alle linee guida alle imposizioni di Bruxelles allora mh crollano i ponti delle autostrade vedi l'esempio tragico del ponte Morandi a Genova eh e eh però le per scarsa manutenzione e eh nonostante le eh tariffe autostradali altissime e di conseguenza eh i Benetton hanno distribuito agli azionisti in queste ultime anni cifre incredibili con la loro società Atlantia. Sì che succede? Quanti hanno distribuito agli azionisti di Erlante a dividendi? Hanno distribuito dicevamo agli azionisti di Erlante hanno distribuito più di 7 miliardi quasi 7 miliardi e mezzo 7 miliardi 462 milioni per la precisione di dividendi agli azionisti tra il 2010 e il 2018 a fronte però di cosa? A fronte di 488 mila 128 euro ripeto non ho letto male 488 mila 128 euro contro 7 miliardi e mezzo di euro di interventi strutturati effettuati sul ponte Morandi tra il 99 anno della privatizzazione perché prima era pubblico e il 2000 virgola e il 2018 e lo 0,01 per cento dei dividendi cioè loro hanno investito in manutenzione infrastrutturale lo 0,01 dei dividendi distribuiti distribuiti solo tra il 2010 e il 2018 non basta perché poi chi dice ma tanto con il pubblico non sarebbe andato meglio siete sicuri? È il pubblico efficiente? Beh pensate che tra il 1982 quando ancora era pubblica il 99 sono stati fatti 24 milioni di euro 24 e mezzo di interventi strutturali il 98,1 per cento li ha fatti il pubblico lo stato il 98,1 per cento contro l'1,99 per cento fatto dai Benetton cioè lo stato ha speso finché se ne occupava 3.665 euro al giorno di media più di un milione e mezzo quasi di euro l'anno a fronte dei 26.140 euro l'anno cioè 71 euro al giorno dei Benetton. Ecco queste sono cifre importantissime grazie Gilberto che ce le dai perché cioè una volta che si hanno questi dati la gente se vuole se vuole ci pensa e ci riflette e poi tra le sue conclusioni se invece non ci pensa e vabbè dopo non lamentiamoci se le situazioni se la situazione è questa la possibilità di informarsi di sapere c'è esiste e ne stiamo dando la dimostrazione Gilberto chiudiamo con un episodio con l'episodio successo sabato alla manifestazione al Circo Massimo a Roma sabato scorso che ti ha visto diretto protagonista e qui direi che è paradigmatico né allora tu sei stato protagonista con un giornalista della sette e questo è direi piazza pulita se diciamo anche per dire nome e cognome e adesso ce lo descrivi perché questo è paradigmatico della della modo di fare informazione come dicevo prima con 20 coppie di virgolette della 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 televisione noi come riconquistare l'Italia ma non solo noi ci siamo scagliati usiamo la parola giusta sia contro il terrorismo mediatico che è stato fatto nell'ultimo anno ma anche contro la voluta polarizzazione del dibattito che è stata creata dove da una parte c'erano i terrorizzati dopo dopo una campagna terroristica è normale non è neanche colpa loro è normale essere terrorizzati non tutti hanno la forza la capacità di andarsi a cercare le informazioni su altre fonti e tutti gli altri italiani che se non sposavano perfettamente la narrazione dominante venivano dipinti come complottisti terra piattisti negazionisti no vax no mask io non avevo dubbi ma è curioso quando ti ci trovi davanti a questo modo di fare perché appunto c'era una collega una giornalista di la sette di piazza pulita che stava seguendo la manifestazione sicuramente per dipingerla come un quacervo un raduno di pericolosissimi negazionisti no mask terra piattisti e scappati anche scappati di casa secondo sicuramente come fanno sempre andati a pescare i personaggi più curiosi che come sempre in ogni manifestazione ovviamente ci sono elevandoli però paradigma del pensiero generale espresso da quella che era un'assemblea che vedeva più di 110 sigle anche molto diverse tra di loro io lo dico la verità mi sono fatto sotto perché essendo candidato sindaco di roma ogni tanto devo anche provare a prendermi la visibilità con le testate dominanti per arrivare a un pubblico maggiore questo insomma rientra nella normalità delle cose ovviamente non ha voluto parlare della campagna elettorale di roma del nostro programma ma solo della manifestazione gli ho detto che noi come partito di conquistare l'italia eravamo andati là al nostro a presentare il nostro documento sul covid 19 tutta una critica ragionata che insomma un documento abbastanza conciso sono cinque pagine ma che affronta veramente tanti temi gli ho cominciato a dire secondo noi perché non funzionava la gestione abbiamo parlato dei tagli alla sanità degli ultimi trent'anni dei pochi posti letto dei pochi medici dei pochi infermieri della mancanza dell'assistenza domiciliare ma l'unica domanda a cui lei voleva una risposta è ma voi siete favorevoli o contrari ai vaccini ma voi siete favorevoli o contrari ai vaccini la tecnica del disco rotto praticamente adottato la tecnica del disco rotto sempre la stessa domanda praticamente ho provato a ribaltarle la domanda facendole capire che c'erano argomenti molto più importanti sulla gestione pandemica che non quello dei vaccini all'ennesima domanda essere contrari ai vaccini per una persona razionale è difficile essere contrari ai farmaci in linea di massima noi sicuramente ai vaccini non siamo contrari al punto che vorremmo un'industria farmaceutica di stato tanto non siamo contrari ai vaccini diverso dire sull'obbligatorietà soprattutto in questo caso specifico dove là con argomentazioni abbastanza solide politiche giuridiche e scientifiche gli abbiamo detto a nostro avviso non esistono oggi i presupposti per parlare di obbligo in un paese tra l'altro dove l'italia dove il problema è l'esatto contrario oggi ci sono milioni di italiani che si vorrebbero vaccinare legittimamente perché se uno si vuole ma per acesa e non sono in grado perché non ci sono le dosi quindi le ho provato a far capire che era anche un problema specioso quello dell'obbligo vaccinale nel momento in cui tu hai il problema esattamente contrario ma ovviamente io sono curioso di vedere il servizio che ne verrà fuori giovedì sera su piazza pulita perché vedrete che avranno costruito un servizio per far venire fuori come una piazza di personaggi pittoreschi tutti terrapiattisti rettiliani e quant'altro senti hanno cercato non sono riusciti a imbrigliarti con la giornalista non è riuscita a imbrigliarti nella sua logica gli ho chiesto anche in Europa quale altro paese ha imposto l'obbligo vaccinale sul covid-19 non mi ha saputo rispondere allora dubito che manderanno in onda anche uno stralcio minimo della tua intervista ci farà molto piacere nel caso nel caso della mia non credo garlo della mia non credo proprio della tua no perché se non è riuscita ad addomesticarti o farti rientrare nella sua logica dubito dubito assai saremo curiosi eventualmente comunque ci farà piacere esserci sbagliati ma in quel caso sarà molto interessante vedere come viene montato il servizio perché anche in quei casi lì la differenza la fa ovviamente a livello comunicativo come viene montato il servizio a fronte dell'intervista vera e reale che si è tenuta bene Gilberto siamo in chiusura ti ringrazio e noi ci diamo appuntamento come sempre martedì prossimo grazie a te Carlo ai nostri ascoltatori ai quali ricordo di iscriversi al canale youtube del Vasco Bandone allora non lo faccio mai bravo guarda fai tu marketing per me e io aggiungo oltre iscriversi cliccare sul simbolo della campanella per essere avvisati quando esce nuovi video perché con le nuove collaborazioni ne escono più al giorno grazie Gilberto grazie ai nostri ascoltatori con te a martedì a martedì grazie a tutti